Misericordia, amore, cura e consolazione sono le parole che guidano il messaggio di Papa Francesco per la trentesima giornata mondiale del Marato sul tema siate misericordiosi come il Padre vostro e misericordioso, porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità. Il pensiero del Pontefice è rivolto ai tanti testimoni della carità che i malati incontrano nel loro percorso doloroso e che si fanno prossimi, che versano sulle ferite l'odio della consolazione e il vino della speranza. Anche noi desideriamo accompagnarli con la preghiera e pregare per tutti i malati, specialmente per quelli in condizioni difficili. Nessuno sia lasciato solo. Ognuno possa ricevere l'unzione dell'ascolto, della vicinanza, della tenerezza e della cura. Lo chiediamo per intercessione di Maria, nostra madre, salute dei malati, della chiesa. E qui, dalla chiesa di Santa Maria in Cavalietto, davanti alla grotta di Lourdes, insieme recitiamo il Santo Rosario. Amén. Ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, amico. Beata Vergine di Lourdes, prega per noi. Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'otto degli urivi. Maria, insegnaci a rispettere con fiducia ogni giorno. Padre, sia fatta la tua donna, non la donna. Sostieneci nell'ora della donna, affinché non buttiamo mai dell'amore del Padre e restiamo salvi nell'attività. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, che viene da voi i nostri ieri, che anche noi viviamo il nostro spirito ritorno, che non abbandonaccia la califrazione, ma in interesse l'amore, amici. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e cattori, adesso è l'ora della nostra morte. Padre nostro, che sei nei Cieli, l'Utria santificato è il tuo nome, venga al tuo Regno e si appassa alla sua volontà, come in cielo, così in terra. Padre fatti oggi, nostro padre, andiamo di merzo dei nostri daatie, vediamo voi i nostri vedi, chiariamo ai nostri vetitori, Il Signore è con te. Il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, venera il principio, ora e sempre, nel secolo e nel secolo di mano. Lodato sempre sia, nel Santissimo nome di Gesù di Slaughter e Maria. E' Gesù mio, per te, accorgiamo il controllo, fermiamoci per la nuova vita, poca il ciclismo, tra le anime specialmente per il Gesù, sempre maggiore il nostro Stewart, Nel terzo mistero contestiamo la coronazione di spine di Gesù. Maria, insegnaci a riconoscere negli altri il volto di Gesù. Aiutaci a non scoraggiarci quando il nostro essere cristiano viene messo alla parola. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Adesso, che oggi il nostro canale poterà, venite a noi i nostri vedi, come anche noi che mettiamo i nostri vedi tuoi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Senno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Adesso, che oggi il nostro canale poterà, venite a noi i nostri vedi, come anche noi che mettiamo i nostri vedi, come anche noi che mettiamo i nostri vedi, come anche noi che mettiamo i nostri vedi. Adesso, che oggi il nostro canale poterà, venite a noi i nostri vedi, come anche noi che mettiamo i nostri vedi, come anche noi che mettiamo i nostri vedi, come anche noi che mettiamo i nostri vedi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Senno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, amore di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Glorio, Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano il Signore, sempre nei secoli dei secoli anni. Adesso è l'ora della nostra morte. 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 Nel quarto mistero contempliamo la salita e il calcario di Gesù. Maria, prega per noi, a qui te come i discepoli fedeli, sappiamo seguire il Maestro sulla via della cruce. Unica via di salvezza. Padre Cristo, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga al Tuo Regno, sia fatta la Sua volontà, come in Cielo così in terra. Grazie oggi, ma salutare la Bibiana, e rivetti a noi i nostri debiti, come anche noi rivetti a noi, che rivetti a noi tutti e a noi, a noi fatturare la Piazione, e a noi le recitare la Piazione. Ave Maria, un'ora di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a Tua le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Santa Maria, un'ora di Dio, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Santa Maria, un'ora di Dio, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Ave Maria, un'ora di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto a Tua le donne, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Santa Maria, un'ora di Dio, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Santa Maria, un'ora di Dio, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Ave Maria, un'ora di Dio, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Santa Maria, un'ora di Dio, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Adesso è l'ora di Dio, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Ave Maria, un'ora di Dio, e benedetto è il frutto del Tuo Sero, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bella del tuo peccatore, adesso è l'ora della vostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore col te. Tu sei benedetta con le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madame di Dio, bella del tuo peccatore, adesso è l'ora della vostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore col te. Tu sei benedetta con le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bella del tuo peccatore, adesso è l'ora della vostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore col te. Tu sei benedetta con le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bella del tuo peccatore, adesso è l'ora della vostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore col te. Tu sei benedetta con le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madame di Dio, bella del tuo peccatore, adesso è l'ora della vostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, bella del tuo figlio. Come era in incinco, il piccolo, il secolo, il secolo, il secolo, il solito, il subito, il samanissimo, come dice Gesù, il respiro di sicurezza. Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti.